Parleremo di geopolitica e con noi infatti il professor Franco Farinelli, docente di geografia all'Università di Bologna, per parlarci di come tra stati tradizionali e stati fluidi il mondo non sia più quello, che avevamo conosciuto sulle carte geografiche. Ascoltiamo qualche momento da una canzone meravigliosa che parla della Terra vista dallo spazio. Il nostro pianeta azzurro è guardato con struggimento dall'astronauta che è decollato dalla Terra e che si sta per perdere volontariamente nello spazio della nostra galassia. Maggiore Tom, risponda per favore al controllo terrestre che la sta chiamando. Sono passati più di 50 anni e questo dialogo tra la Terra e lo spazio non cessa di emozionarci. David Bowie scrisse Space Oddity influenzato dalla visione di uno dei più grandi film di sempre, 2001, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Solo un anno prima di questa canzone l'uomo aveva visto per la prima volta una foto a colori del nostro pianeta. A scattarla furono gli astronauti dell'Apollo 8. Questa visione nitida di un paesaggio il cui centro è la sfera terrestre ha determinato il nostro concetto di geografia, spazio, mappa, uomo. Space Oddity uscì l'11 luglio del 1969 e molte cose da allora sono ancora una volta cambiate. La Terra è sempre sferica, ma i nostri modi di immaginarla, di pensarla, di abitarla sono stati rivoluzionati. Ne parleremo ascoltando innanzitutto la lezione di un grande geografo. Insegna all'Università di Bologna e ha scritto molti bellissimi libri su questi argomenti. E con noi oggi il maestro Franco Farinelli. Campanella Geopolitica è un termine che viene inventato nel 1916 quando la Prima Guerra Mondiale era scoppiata e a fortuna però in terra tedesca. Chilo Konya è un sociologo svedese, Rudolf Kjelll. Ma ancora oggi geopolitica significa dire Karl Haushofer e la tragedia della geografia tedesca. Che cosa significa geopolitica? Che cosa vuol dire? Cosa intendevano dire coloro che negli anni che vanno dalla metà degli anni 20 fino alla metà degli anni 40 si rifanno a questa dottrina? Per Kjelll la geopolitica era la dottrina dello Stato come organismo geografico, come fenomeno spaziale. Ma per Karl Haushofer era molto di più. Era la dottrina delle forme politiche determinate dall'intreccio tra processi storici e lineamenti della faccia della terra. L'idea cioè mai completamente espressa fino in fondo, mai chiaramente portata a compimento, tant'è vero che avevano buon gioco i geografi che avversavano la geopolitica a dire che essa era nient'altro che un seguito di capriole linguistiche. L'idea portante era appunto che le forme terrestri, le fattezze della terra, determinassero le forme politiche stesse. E questo perché le forme naturali, per così dire, costituivano una sorta di campo ideologico che era espresso dalla cultura, dall'atteggiamento, dalle qualità delle popolazioni che abitavano quella parte della terra stessa. Non fu mai la geopolitica una dottina scientifica vera e propria. In sede storiografica, ancora oggi, si continua a ripetere che la geopolitica fu la tragedia di una famiglia sostanzialmente, quella appunto del generale Karl Haushofer e di suo figlio Albrecht e della moglie che era ebrea, tra le altre cose. Karl Haushofer si suicidò. Dopo essere stato a lungo interrogato dai professori americani della Georgetown University, Albrecht morì in un campo di concentramento americano. Ma la geopolitica non finì lì. Non finì perché appunto in seguito all'interrogatorio di Karl Haushofer nacque all'inizio degli anni Cinquanta una geopolitica americana e successivamente, molto più vicino a noi, all'inizio degli anni Ottanta, all'epoca della prima guerra del Golfo, nacque una geopolitica per così dire europea di marca francese che è ancora oggi quella che si continua a produrre, non soltanto in Europa. Ma in fondo la geopolitica cos'è stata? Per trarre un bilancio molto rapido, la geopolitica che in realtà non è la crisi di una semplice famiglia di geografi, ma è la crisi della geografia critica tedesca dell'Ottocento, la geopolitica è stata la crisi del modello cartografico del mondo e insieme è stata la valorizzazione, la consapevolezza della sua portata, della sua influenza, della sua capacità. Dal punto di vista ideologico la geopolitica servì molto all'avvento del regime nazionalsocialista in Europa. Franz Neumann, lo storico di questo periodo, uno dei più importanti, addirittura assegna il primato alla geopolitica, perché la geopolitica intendeva sostenere semplicemente una cosa, che la faccia della terra è costituita da campi ideologici e l'ideologia di un popolo è molto più importante della sua economia. Campanella Franco Farinelli. Io vorrei iniziare questa nostra conversazione che approfondisce i concetti che lei ci ha appena enunciato. Ecco, provando a metterla un po' in crisi, l'idea di geopolitica e poi forse anche addirittura quella di geografia. Ecco, perché per certi versi ormai abbiamo a che fare con stati che sono digitali, che vivono sulle rete, no? Io penso a Facebook, a Google, a tutti i social network, che un po' forse scompaginano queste categorie. Quindi, se lei è d'accordo, io le farei vedere questo piccolo filmato in cui ascoltiamo il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, anche se avrebbe da chiamarlo Zuckerberg con la pronuncia tedesca, visto che stiamo in ambito germanico, che parla proprio un po' come se fosse un capo di Stato. Ascoltiamo. Facebook è troppo potente? Lei è troppo potente? Quando ci si chiede se Facebook sia troppo potente, si pensa ai due miliardi di utenti che abbiamo. Ma la verità è che questi due miliardi di utenti sono per la maggior parte fuori dagli Stati Uniti. E credo che di questo gli americani dovrebbero essere fieri, perché altrimenti i colossi internet cinesi sarebbero stati una grande minaccia per la nostra tecnologia. Franco Farinelli, ha ascoltato Mark Zuckerberg, parla quasi come un capo di Stato, no? Ma davvero questi social network stanno mettendo in discussione i concetti geopolitici di base che lei ci ha illustrato? Sì, sì, nel senso che sono dei soggetti che dovremmo definire metaterritoriali. Il problema qual è? Il problema è che gli Stati moderni sono dotati di un territorio la cui natura è cartografica. Qui bisogna essere molto chiari e precisi. A scuola non ci hanno fatto capire una cosa fondamentale, fin da piccoli. Una mappa non è la copia di ciò che esiste. Nel caso dello Stato, lo Stato è la copia della mappa. Cioè la mappa determina lo Stato, determina la forma. Assolutamente. E quindi dobbiamo ribaltare il modo in cui normalmente noi concepiamo una mappa. Certo. Non soltanto la forma, ma aristotelicamente la forma è la cosa. Cioè è la natura della cosa. Uno Stato funziona semplicemente perché l'abbiamo costruito come fosse una mappa. E di fronte a soggetti come quelli appunto che costituiscono la rete al cui interno non c'è spazio. Non c'è spazio se per spazio intendiamo ciò che andrebbe finalmente e prima di ogni altra cosa inteso per spazio. Cioè la possibilità di ridurre la faccia della Terra nel suo funzionamento a una misura metrica, lineare, standard. Perché spazio viene dall'antico greco stadio. Cioè dalla misura di lunghezza degli antichi greci. E invece questi stati, i social network, adesso le voglio far vedere due proprio cartelli, due immagini che ci raccontano proprio la geografia dei social network. Facebook, fondato, anno di fondazione, 2004. 2,5 miliardi di abitanti, lingue parlate in questo Stato 111. E i paesi con cui non intrattiene relazioni, ne parliamo per l'appunto come se parlassimo della Germania del 1930, sono Cina, Iran, Corea del Nord e Siria. Lo stesso gioco l'abbiamo fatto con Google. Fondazione 1987, abitanti 4 miliardi, lingue parlate 149. Paesi con cui non intrattiene relazioni, Cina, Cuba, Iran, Myanmar, Sudan, Corea del Nord e la Siria. Eh, sono veri i propri stati, professor Farinelli. Non sono stati, nel senso tradizionale del termine. Anzi, per molti aspetti sono il contrario di uno Stato. Cioè, lo Stato deve essere un territorio continuo, omogeneo, cioè fatto tutto della stessa sostanza, cultura e lingua sono le due espressioni della sostanza di uno Stato, e poi deve essere isotropico, cioè tutte le parti di uno Stato devono essere voltate nella stessa direzione. Ecco perché prima dicevo che lo Stato è la copia della mappa, perché la continuità, l'omogeneità e l'isotropismo sono le proprietà che nella geometria euclidea, quella tradizionale, costituiscono la natura geometrica di qualsiasi estensione. Ecco, mi sembra che abbiamo a che fare, quindi, innanzitutto con un problema geometrico, cioè la mappa è bidimensionale. Il nostro pianeta, come cantava David Bowie, è una sfera meravigliosa, e queste entità multiterritoriali che determinano la politica, e quindi anche la geopolitica contemporanea, sono quasi assomigliano a una parte a bolle, a schiuma, a vaporizzate per certi versi, ma che però determinano il racconto globale del mondo, esattamente come lo intendevano i geopolitici. Cioè, ne determinano il funzionamento, e però allo stesso tempo sono irriducibili alle categorie che abbiamo in testa, le quali, esattamente come il territorio moderno, anche esse sono di natura geometrica tradizionale. E la grande sfida è questa, secondo me, in questo momento, è quella di approntare urgentemente il Covid, questo ci mostra, ci spinge a fare, ci ricorda di fare il più presto possibile. Abbiamo bisogno urgente di approntare nuovi concetti e nuovi modelli per tentare di capire come il mondo funziona. Forse perché la geometria classica, tradizionale, quella di Euclide, che ancora oggi governa il funzionamento del territorio nel senso materiale del termine, e i modelli che abbiamo in testa, non è più adeguata. Ecco, professore, lei ha appena parlato del Covid. Beh, anche il Covid mette in discussione le categorie classiche della geopolitica, per certi versi. Le voglio far vedere un'animazione che mostra come si è diffuso il Covid, dall'anno scorso, dal novembre dell'anno scorso in Cina e poi in giro per il mondo. Ecco, noi la vediamo, piano piano si anima e vediamo questa distribuzione che copre quel piano bidimensionale della mappa del mondo, per l'appunto, e lo copre di questo vapore che determina, però ha determinato e cambia completamente le nostre categorie politiche e geografiche nell'immaginare il mondo. Ecco, in che misura il Covid, una pandemia, può essere un attore geopolitico? Ma intanto si parla di distanziazione sociale, che è una bellissima... Lei torna sempre sul concetto di spazio, giustamente. Ma certo, perché è lo spazio che va in crisi profonda da questo punto di vista. E appunto la distanziazione sociale che cos'è a farci caso e per molti aspetti è il contrario di ciò che tutta la modernità ha creduto, vale a dire che ci fosse un rapporto diretto e non inverso tra società e vicinanza e prossimità. Oggi la società, per poter sopravvivere quella che noi conosciamo, ha bisogno di mettere distanza tra gli individui. La distanza che era un ostacolo per tutta la modernità diventa a questo punto un vantaggio. Si rovescia come senso, per esempio. Basterebbe questo a mostrare come esattamente la struttura spaziale del funzionamento del mondo ad essere in crisi. E questo è comprensibile perché dalla fine degli anni 60 del secolo scorso esiste qualcosa che noi svagatamente chiamiamo rete ma che significa proprio questo. Vale a dire la produzione, lo stabilirsi di un livello superiore nel funzionamento del mondo rispetto al quale lo Stato stesso è determinato, è sottoleterminato. E noi siamo esattamente in questo bilico, in questo passaggio concettuale. Davvero dal nuovo mondo, quello che ancora abitiamo e per il quale abbiamo le idee pronte, al nuovo nuovo mondo, quello della rete per il quale ci mancano i concetti di riferimento. Ecco, ma su questo poi arriveremo e proveremo con lei, Franco Farinelli, a immaginare un nuovo Cristoforo Colombo, un nuovo esploratore, scopritore che sarà in grado di aggiornare le categorie dello spazio, del paesaggio, per esempio, alla rete, a queste nuove forme vaporizzanti che caratterizzano la nostra contemporaneità. Ma io volevo chiederle, noi siamo immaginati appunto, siamo abituati a pensare che Facebook, Google, eccetera, sia un'entità appunto multiterritoriali e che siano attori di una nuova azione geopolitica. Nello stesso tempo, però, noi potremmo anche immaginare e ci rifacciamo a quanto diceva Zuckerberg, anzi, Zuckerberg, in audizione al Senato, abbiamo ascoltato poc'anzi, che invece i social network possono anche essere delle armi che gli stati, pensati in maniera tradizionale, possono utilizzare nella loro guerra geopolitica. Cioè, quello che Trump ha detto rispetto a TikTok, le battaglie che si giocano lì contro tra Cina e Stati Uniti, appunto, la rete come arma da usare tradizionalmente secondo la logica politica classica. Sì, questo però, a patto di cominciare così proprio come la rete richiede, a pensare il mondo secondo proprietà che sono esattamente antitetiche a quelle tradizionali dello spazio, vale a dire a qualcosa di eterogeneo, discontinuo e anisotropico. Si tratta proprio di rovesciare il modello tradizionale euclideo-geometrico che fin qui ci ha accompagnati. Perché la rete ci pone di fronte esattamente a questa necessità. E all'interno di questa capriola concettuale, non più linguistica, che la rete può diventare esattamente quello che lei dice. Può diventare una maniera con cui gli stati, soggetti storici, per così dire, territoriali, possono in qualche maniera reggere l'urto che arriva da questi soggetti metaterritoriali, io li definirei, che abitano un altro mondo. Che abitano un altro mondo. È un po' come nel racconto di Borges in cui la mappa è identica alla terra di cui deve essere mappa e quindi la ricopre e la fa morire perché non passa più il sole. Quindi, immaginare questa carta bidimensionale che ricopre come una carta regalo l'intero pianeta e quindi c'è una sovrapposizione di strati e con la geopolitica si complica ulteriormente. Ma poi torneremo a questa questione ma prima dobbiamo però determinare un po' meglio i concetti base, professor Farinelli. Cioè la mappa lo ha detto lei prima come immagine bidimensionale che determina il mondo più importante della realtà di cui sarebbe copia. Ci puoi illustrare meglio questo concetto? Beh, il territorio moderno è una mappa lo concepiamo soltanto come una mappa diventa possibile governarlo dirigerlo controllarlo esattamente perché l'abbiamo ridotta a una mappa e attenzione proprio qui è il nesso con la geopolitica un nesso fondante nel senso che molto prima che la geopolitica esistesse molto prima cioè della prima guerra mondiale quando il termine nasce come prima si diceva per esempio si pensi come la Moscovia è diventata la Russia che noi conosciamo vale a dire un'estensione enorme che va dalle foreste russe arriva fino al Mar Nero alla Crimea e al Caspio da un lato e arriva dagli affluenti dagli affluenti di destra del Danubio fino agli Urali è stato un procedimento letteralmente cartografico vale a dire in cui l'occhio si è proiettato sulla mappa e si è annesso ciò che la mappa rappresentava ecco io credo che poi alle mie spalle di fronte a lei stiano scorrendo immagini proprio della propaganda nazista e che mostrano per l'appunto l'avanzamento su una mappa dell'esercito nazista nella conquista dell'Europa certo ecco ma questa idea bidimensionale della mappa produce quindi anche una politica aggressiva cioè concepiamo il pianeta come un piano da conquistare come un'estensione dello sguardo come funziona funziona in maniera molto semplice proprio perché bidimensionale la mappa non ha ostacoli non presenta ostacoli l'occhio sulla mappa può spaziare proprio il caso di dirlo a piacimento come spiegava Spengler nel tramonto dell'Occidente il primo organo la prima arma dell'animale da prede è l'occhio ed è l'occhio che è sulla mappa e attenzione quando Hitler annette l'Austria sta operando esattamente non soltanto sulla base di questo impulso ma sta operando esattamente secondo la logica tradizionale cioè quella che ha prodotto gli stati moderni perché sta agendo sulla base di uno dei principi fondamentali prima ricordati l'omogeneità di lingua e di religione dell'Austria rispetto al resto della Deutschland della Germania cioè quindi la mappa così come siamo abituati a immaginarla in questo caso è come se fosse stata costruita da un cacciatore cioè c'è ancora l'animo del cacciatore giochiamo un po' con gli archetipi e poi magari arriveremo anche a questo cioè del cacciatore che punta la sua preda e lo può fare soltanto se la sua preda è nell'ottica della sua vista sta nel mirino dell'arma che la deve uccidere questo non è il nuovo Varrone al tempo dell'antica Roma diceva che il romano vince seduto una frase che qualcuno fa fatica a spiegare ma da questo punto di vista è perfettamente evidente ecco professor Farinelli ma allora se è così noi dobbiamo addirittura fare un passo ancora precedente cioè ricordare l'importanza della geografia cioè conoscere come siamo dislocati e qual è la logica per la quale noi visualizziamo lo spazio in questo modo è innanzitutto un sinonimo significa proteggerci e comprendere quali potrebbero essere gli assalti dei nemici da questo punto di vista la geografia è importante e allora come mai stiamo perdendo un po' la capacità di saper collocare in questo spazio bidimensionale i luoghi del nostro paesaggio perché oggi per comprendere il funzionamento del mondo uno spazio bidimensionale non spiega più granché guardi la interrompo un secondo e voglio far vedere un filmato in cui noi vediamo sia alcuni ragazzi che partecipano a una scuola al collegio a un reality show di Rai 2 e sia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump due esempi molto diversi tra di loro ma eloquenti che sulla geografia beh hanno parecchie incertezze New Mexico New Mexico which I think we're going to win you know why we're going to win New Mexico because they want safety on their border and they didn't have it and we're building a wall on the border of New Mexico and we're building a wall in Colorado we're building a beautiful wall Franco Farinelli il Colorado non c'entra niente con il Messico però ecco e questo era Donald Trump cioè questo era Donald Trump un capo importantissimo cioè se noi abbiamo visto che la conoscenza della geografia determina la politica beh una politica che è priva di geografia cosa significa? io qui distinguerei perché sono due esempi che vanno nella stessa direzione ma in realtà sono differenti con conseguenze molto diverse con conseguenze molto diverse al limite la ragazza del reality prende un brutto voto e pazienza ma Donald Trump è un altro per di mani esattamente allora da un lato c'è l'ignoranza diffusa del sapere geografico ci vorrebbe molto tempo per tentare di spiegarla e basti soltanto voglio però ricordare che la carta muta la cartina muta che ancora ai miei tempi per l'immagine della nazione era un incubo la carta muta è stata una grande conquista della società civile europea perché prima della carta muta che focalizzava sui lineamenti terrestri gli stessi da cui partirà ripartirà poi la geopolitica prima della carta muta esistivano soltanto i confini politici degli stati feudali di marca aristocratica dunque attenzione nel primo caso degli esempi si tratta della dimenticanza di un passaggio fondamentale della cultura geografica civile nel caso di Trump invece nel caso di Trump beh viene da dire che Bacone non ha più ragione cioè sapere non è potere assolutamente no d'altra parte ripeto anch'io che sapere non è più potere se uno ha potere non ha bisogno di sapere a che cosa servirebbe il potere però forse il vero potere lo conquisterà chi capirà qual è quella forma nuova del mondo di cui parlavamo prima che è la rete e che è questa stratificazione vaporizzante della forma del mondo assolutamente sì che sta facendo concorrenza esattamente al paesaggio perché il paradosso sempre per tornare al nostro argomento che è la geopolitica il paradosso è il seguente che a distanza di un secolo da quando il termine geopolitica apparve oggi se volessimo definire ciò che la geopolitica mai è stata cioè un programma di ricerca beh oggi avrebbe molte più probabilità di essere plausibile perché più si va avanti più si comprende che esiste un rapporto tra ciò che vediamo e ciò che pensiamo e questo è esattamente il punto occorre un nuovo Cristoforo Colombo 2.0 le faccio vedere due Cristofori Colombi mitici quello dello sceneggiato di Alberto Lattuada e poi un'interpretazione di Paolo Villaggio che compare come Cristoforo Colombo e da lì ragioniamo terra 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 è in fondo sono ricco sono ricco sono ricco tutte le maniana alle 5 5 e un quarto urlava terra e tutto un baticorno e invece era un scherzo non c'era niente simpatico è un pigafetta pigafetta ecco però qui abbiamo ben chiaro un elemento cioè la terra e il mare e la necessità di rideterminare no? perché Cristoforo Colombo ha scoperto non solo un nuovo continente ma una nuova immagine del mondo come ha funzionato e perché la figura di Colombo può insegnarci qualcosa per la geografia e la geopolitica che ha a che fare con Facebook Google eccetera perché volendo anche Colombo ha compiuto un'impresa quella che oggi alla rete ancora manca di riconoscere la modalità con cui nel nuovo nuovo mondo oggi nel nuovo mondo allora il materiale e l'immateriale sono risettati mi spiego quando Colombo va e va semplicemente perché lui antepone il modello alla realtà la grande forza di Colombo è di avere compreso che se la terra è una sfera bene allora noi ci comportiamo di conseguenza e se dobbiamo attraversare l'oceano tenebroso come allora si chiamava noi prendiamo la direzione opposta a quella di tutti gli altri Vasco da Gama nel 1498 arriva cioè si è comportato avendo introiettato in sé la forma nuova del mondo assolutamente la precedenza del modello rispetto alla realtà e questo ha rivoluzionato il mondo noi dovremmo professor Farinelli abituarci a pensare e abitare a concepire nuovi paesaggi con strutture diverse e fare i conti con il covid-19 fare i conti con i social network e la rete questa sarà la nuova geopolitica del futuro è la grande sfida grazie a tutti